Buon lunedì a tutti e benvenuti al TG dei motori, l'unico TG su YouTube Italia che riassume tutte le novità principali avvenute nel mondo del motorsport nel corso della settimana appena conclusa. Oggi andremo ad analizzare e a parlare delle novità avvenute fra il 31 gennaio e il 6 febbraio. Il TG si suddividerà in sezioni, partiremo col dare quelli che sono gli appuntamenti principali della settimana, passando poi alle dichiarazioni più importanti, più scottanti dei protagonisti della Formula 1, successivamente andremo a parlare di quelle che sono le novità legate alle monoposto 2022, per poi concludere con le altre novità riguardanti il 2022 sempre tema Formula 1 e le novità riguardanti le altre competizioni sempre all'interno del motorsport, quindi moto mondiale, Formula E, Indicare e così via. Questa settimana sarà piena di presentazioni delle nuove monoposto, avremo quella relativa Red Bull, Aston Martin e McLaren relativamente 9, 10 e 11 febbraio. Inoltre settimana di motori, infatti venerdì e sabato in Messico correrà la Formula E. Se volete seguirla, le qualifiche si terranno sabato alle 18 e la gara si terrà alle 23 sempre sabato. Potrete eseguirla su Sky, canale 201 o 206, oppure in chiaro su canale 20 del digitale terrestre. Come ogni settimana non può mancare una dichiarazione polemica di Helmut Marko. Infatti se nelle settimane precedenti si era scagliato contro la Ferrari, contro i piloti, contro la nuova monoposto, questa settimana si è scagliato contro Bottas. Cito testualmente la sua dichiarazione, Valtteri è un perdente quando si tratta di sorpassi. Tutti siamo d'accordo sul fatto che Bottas sia un carente in tema di sorpassi, però la signorilità, la sportività sta anche nel come dici le cose e Helmut Marko sicuramente non possiede queste qualità. Restando in casa Red Bull, questa volta a parlare è il DS, cioè il dirigente sportivo, Whitley, che a differenza dei suoi compagni di team, colleghi di team Marco e Horner, considera la Ferrari una potenziale minaccia per il 2022. Infatti il dirigente sportivo della Red Bull ha affermato che è molto difficile prevedere quelle che saranno le forze nel 2022 e secondo lui la Ferrari è contemporaneamente la grande incognita e anche la grande minaccia del nuovo anno. Soprattutto se ci basiamo su quelle che sono state le performance sul finale della stagione scorsa della Ferrari, che è andata increscendo, è il rapporto fra i due piloti, fra Charles Leclerc e Carlos Sainz, che si è rivelato essere ottimo almeno fino al momento. Dalla prossima edizione di Drive to Survive non troveremo il campione del mondo in carica olandese. Infatti Max ha abbandonato quello che è il progetto Drive to Survive in quanto secondo lui vanno a pompare, vanno a ingigantire le rivalità in pista, andando a creare anche odio fra le tifoserie e siccome questo mondo, questo modo di fare a Max non piace, allora ha deciso di defilarsi e di abbandonare la serie. A sorpresa il 4 febbraio la ASS ha rivelato la livrea del 2022. Occhio non la monoposto ma la livrea. Infatti la monoposto del team statunitense verrà rivelata a Barcellona durante i test e probabilmente non tutti i team, ma comunque una buona percentuale seguirà la scia della ASS, cioè nelle date ufficiali di presentazione delle monoposto vedremo probabilmente le livree ufficiali, non le monoposto in sé per sé, che invece vedremo durante i test di Barcellona e del Bahrain. Come potete vedere non c'è stata una vera e presentazione perché la livrea è uguale a quella dell'anno scorso, la monoposto la vedremo fra qualche settimana a Barcellona, è bella lì. Red Bull ha annunciato a sorpresa la presentazione della nuova monoposto che avverrà il 9 febbraio. Infatti fino alla settimana scorsa numerose voci sostenevano che Red Bull insieme a Mercedes avessero fallito i crash test, in particolare Red Bull quello frontale. Questi rumors sono stati smentiti da alcuni componenti della Red Bull che hanno inoltre affermato che il ritardo nell'annuncio della data di presentazione della nuova monoposto non era legato al crash test fallito ma era legato ad aspetti puramente di pubblicità e di sponsorizzazioni. Anche Mercedes ha smentito la notizia riguardo il fallimento del crash test laterale e per certificare l'avvenuta omologazione da parte della FIA Mercedes ha pubblicato su Instagram questa foto che è testimonia appunto l'omologazione completata. Giovedì 3 febbraio è avvenuto il primo fire up della Ferrari che adesso ha anche un nome F1 75. Il team di Maranello quindi abbandona la denominazione SF, scuderia Ferrari, e torna al vecchio F1. L'ultima monoposto di Maranello targata F1 è stata la 248 del 2006. 75 ovviamente come anche spiegato da John Elkan si riferisce al 75esimo anniversario dalla prima uscita dai cancelli della fabbrica di Maranello di una vettura Ferrari. Due settimane fa all'Australia aveva comunicato ai team e alla Formula 1 in generale che per partecipare al campionato d'Australia ed entrare appunto in Australia occorreva essere vaccinati o essere guariti dal covid. Questa linea di pensiero è stata presa dalla Formula 1 in generale che infatti ha comunicato l'obbligatorietà vaccinale o essere guariti dal covid entro i sei mesi per poter accedere al paddock. Quindi questo vale per gli spettatori, per i meccanici, ingegneri, giornalisti, tutti coloro che vorranno partecipare, vorranno entrare nel circuito. Novità per quanto riguarda il format dei weekend del 2022. Il weekend di gara infatti non durerà più quattro giorni, cioè a partire dal giovedì con le interviste ma tre. Infatti gli appuntamenti con la stampa, le interviste e le conferenze si svolgeranno il venerdì mattina e le due sessioni di prove libere non si svolgeranno più la prima al mattino e la seconda nel pomeriggio ma entrambi di pomeriggio. Questo format varrà per i fine settimana che non prevedono le sprint qualifying. A proposito di sprint qualifying vi sono delle novità. Infatti se fino a qualche settimana fa era quasi certo che quest'anno ci sarebbero state almeno sei sprint qualifying, adesso questa notizia non sembra più tanto certa in quanto sembra che la federazione abbia comunicato ai team che si resta sulle tre gare sprint o addirittura ve ne saranno anche di meno. La cosa certa comunque è che in Bahrain non vedremo alcuna sprint qualifying. Riguardo le qualifiche poi vi è una novità importante, cioè i piloti che si qualificheranno nella top 10 dell'AQ2 non saranno obbligati a utilizzare quella mescola in partenza al Gran Premio. Non vedremo più quindi piloti cercare di qualificarsi a Q3 con gomma gialla ma presumibilmente, anzi certamente, tutti i piloti affronteranno tutte le sessioni di qualifica con le gomme rosse. Sabato 5 febbraio Lewis Hamilton fa il suo ritorno sui social e lo fa con una foto nella quale se la ride. La coppia che tutti stavamo aspettando, Felipe Massa e Timo Glock parteciperanno alla gara di stock car il 13 febbraio come compagni di squadra. La notizia delle notizie, a Bari i carabinieri hanno sequestrato una nuova e potente droga mai vista in Italia denominata Max Formula 1. Infatti su un lato della pasticca si può notare come sia presente il logo quello vecchio della Formula 1 e sull'altro lato vi sia la scritta Max. Terminiamo il TG dicendo che i test di Sepang e di MotoGP sono andati una bomba per l'Italia perché Nea Bastianini ha fatto registrare il record della pista con la moto vecchia, quella dell'anno scorso. Mi è da dire solo una cosa, date una moto a questo ragazzo. Grazie mille a tutti per la visione, ci vediamo al prossimo lunedì.